Allora, ciao a tutti! Faccio questo video perché faccio prima a registrare piuttosto che a scrivere e siamo tornati da poco dalla visita e siccome non è andata proprio benissimo come speravo alla dottoressa non sono piaciuti per niente i valori della flussimetria quindi domani mattina devo tornare e fare il monitoraggio e la dottoressa vuole farmi una nuova flussimetria e mi ha detto che se i valori non sono cambiati o addirittura peggiorati, lei mi vorrebbe ricoverare e quindi mi ha detto vieni con la valigia perché mi ha fatto capire che al 90% mi ricoverano e quindi appunto ci tenevo a fare un video perché sennò poi a scrivere un poema e poi a scrivere una cosa per un'altra perché sono agitatissima quindi ecco adesso ho finito di preparare la valigia giustamente ho dovuto aggiungere delle cose che non avevo messo perché avevo contato i giorni del parto e un'agitazione tremenda si sentirà dalla voce e niente e ragazze non so se ci sarà una connessione internet non so perché mai sto tremando non so se ci sarà una connessione internet comunque io ho il tablet fibi tente e ti strozzi il tablet me lo porto in modo che magari ecco non riesco a caricare video però riesco a comunicare con voi non so quando ci rivedremo e per le ragazze che stanno partecipando al give io l'avrei dovuto chiudere se non sbaglio dopo domani però insomma capirete che non sarà possibile quindi potete continuare a mandare tutti i commenti che volete appena avrò un momento tranquille perché comunque insomma i regalini lo ti do e niente io spero di ritrovarvi tutte quante al mio ritorno e spero di rivedervi presto e la prossima volta magari ci vedremo con Pingu scusate ci vediamo presto ciao